Amici carissimi, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con l'angolo del consumatore. Oggi parleremo di risarcimento danni tour operator. Avvocato, novità? In caso di rapine, aggressioni o lesioni subite in vacanza. In particolare è molto più interessante. Ci sono novità in questo caso perché c'è comunque sempre a livello giurisprudenziale una nuova tendenza e tutela meglio i vacanzieri e quindi chi soprattutto si mette nelle mani di tour operator, villaggi turistici, eccetera, eccetera, ha una marcia in più nel caso non auspicato che si verifichino episodi sgradevoli. In sostanza il tour operator è responsabile di qualunque danno derivi al viaggiatore, al cliente, nel momento in cui si trovi nella struttura che sta prenotata tramite il tour operator. e quindi è tenuto nel caso, adesso diciamo la sentenza presa in esame prende in particolare il caso di un'aggressione fatta a un turista in un villaggio e appunto venia poi malmenato per essere depredato dell'orologio di valore. Però il principio generale che comunque se ne ricava è che il tour operator deve risarcire non solo il danno patrimoniale che è il danno emergente cosiddetto a livello legale che riguarda la perdita dell'orologio, quindi il valore dell'orologio, ma deve risarcire anche quelle che sono lesioni personali, fisiche o psichiche, quello che sia, quindi il danno non patrimoniale in particolare e inoltre deve risarcire anche il danno cosiddetto da vacanza rovinata perché se poi a seguito dell'episodio il cliente logicamente è costretto a interrompere la vacanza, insomma non finisce di completare quello che ha pagato in anticipo e oltre alla restituzione della differenza appunto c'è un'ulteriore voce di danno che va applicata al risarcimento dovuto appunto al viaggiatore, questo perché ovviamente il tour operator ha l'obbligo di sorvegliare tutto quello che succede nelle strutture per le quali ha preso soldi e appunto nelle quali manda il cliente e quindi tutto quello che si verifica all'interno di queste strutture, uno poi sta per strada insomma in centro è un altro discorso, è il tour operator che deve comunque risponderne. Avvocato ma a livello legale come funziona, come si agisce? A livello legale va fatta un'azione, o meglio, va approvato un approccio prima extra giudiziale del tour operator tramite una diffida ovviamente, un avvocato che possa comunque valutare, quantificare quelle che sono le voci di danno e se, quali e quanto poi sarebbe l'importo dovuto e poi è ovvio che se il tour operator non è disposto a trattarla in via stra giudiziale va fatta un'azione legale, civile dove appunto si chiama in giudizio il tour operator perché poi spesso gli aggressori che, tipo il caso insomma di specie, svaniscono perché non si sa chi possa essere stato, viene chiamato in giudizio il tour operator che è comunque tenuto a risarcire il danno a prescindere che sia assicurato meno per questi eventi. Bene, noi ringraziamo l'avvocato Diego Florio, vi ricordo delegato responsabile di Conf Contribuenti Italia, a Perugia, vi ricordo che lo studio si trova in via Cartolari numero 25 a Perugia, telefone fax 075 76 11 397, cellulare 338 60 75 395, confcontribuentitalia.perugia.gmail.com